Ciao a tutti da Marco, quest'oggi presento, insieme al nostro amico Lord Fenner, un forse delle scarpe mie preferite in assoluto, è il mio terzo paio di Onitsuka Tiger, che sono veramente delle scarpe che sono dei guanti, che per chi non sapesse queste scarpe sono fra le scarpe più vendute al mondo, è una ditta giapponese, comunque che è del dopo guerra, addirittura la casa ovviamente adesso è stata inglobata, però comunque ha una storia molto importante, per chi volesse magari si va un giro su internet e può vedere di che cosa sto parlando, è anche interessante da sapere appunto la storia di questa scarpa. Abbiamo come sempre questa suola in materiale plastico estremamente compatta, estremamente solida, senza troppe cuciture, senza troppi fronzoli, queste sicuramente non vi si spaccano, abbiamo una leggera fodera interna in tessuto, anche molto morbida, ovviamente la punta tonda, la fodera esterna in tessuto di buona qualità e sicuramente la mia recensione, oltre su questo paio nuovo di scarpe, si basa anche sulla mia vecchia esperienza, sono delle scarpe indistruttibili, sono delle scarpe di una comodità incredibile, se le provate non tornate più indietro, io non nascondo che comprei per tutta la vita solamente queste scarpe, ne ho provate tantissime, sono un amante delle scarpe, ma queste sono le mie preferite, veramente non ne posso fare a meno. Il prezzo di vendita è tra i più bassi nel mercato, sicuramente magari non sono di tendenza come altri modelli che abbiamo anche visto nelle recensioni, non vi stancherete mai di indossarla. Per la qualità delle finiture, per il prezzo di vendita, anche per la storia di questa scarpa, io vi consiglio assolutamente di provarla almeno una volta nella vostra vita, a nome mio, a nome è Lord Fenner, vi ringrazio e alla prossima recensione, ciao a tutti!